Eeeh ciao a tutti amici di youtube sono sempre io Fabio ed oggi prima di iniziare l'argomento del video dovete indovinare il titolo del mio manga o anime preferito che ho impostato come sfondo del desktop riuniti tutti quanti sono 16, 16 bellissimi capolavori che riguarderei l'hop infinito finora ne abbiamo visti diversi, alcuni sono estremamente intuibili, altri possono risultare davvero particolari perciò fatemi sapere nei commenti la vostra risposta chi risponde in maniera esatta verrà menzionato in questi video e se eventualmente ha un canale youtube o un altro profilo social lo pubblicizzerò dallo scorso aprile su windows 7 dovreste vedere apparire un nuovo pop up che avvisa l'imminente fine del supporto ufficiale atteso per gennaio 2020 a differenza del fastidioso pop up che offriva l'aggiornamento gratuito a windows 10 rimosso se non erro nel 2016 per questo riguardante la fine del supporto non ci sono eccezioni è stato anche ampliato a chi possiede la versione pro del sistema operativo il codice del kb è il 4493132 che abilita questo pro memoria nel caso in cui non volesse veder comparire il pop up non installatelo o al limite disinstallatelo da windows update per questo argomento è tutto noi ci vediamo ad un prossimo video